tutti qua allora siamo benvenuti salve a tutti noi qua stiamo lavorando per il tour ci vuole un fiore tour live che ci vedrà impegnati durante la stagione estiva 2023 un po' per tutto il territorio italiano stiamo facendo una fattispecie da parte delle programmazioni di inizio concerto e tutte le parti insomma di programmazioni programmazioni si chiama programmazioni non si sentono ma fanno ecco senti per dare un assaggio giusto per dare un assaggio succederanno delle luci come mai? basta ciao